Oggi c'è la prima seduta del Consiglio regionale della Lombardia dopo lo scandalo mafia in Expo e in Fiera Milano. Abbiamo chiesto come Gruppo 5 Stelle che Maroni venisse a riferire in aula dei fatti accaduti. Purtroppo nessun gruppo consigliare di destra e di sinistra ha accettato questo invito. È chiaro che il loro intento è quello di lasciare cadere nel silenzio quello che è successo perché sono fatti scomodi sia per Maroni che per Sala. Addirittura sono arrivati a dire che il Consiglio regionale non deve occuparsi di questa cosa perché in fondo ci sono poche competenze per noi su questo tema. In realtà la legalità, la lotta alla mafia, la trasparenza sono il punto principale per la ripresa della nostra regione.